E' strutturata in tre dipartimenti come comitato scientifico, come sapete, che è strutturata in dipartimenti, ha un dipartimento di giustizia che è preseduto dal magistrato Piero Toni e i cui componenti trovate sul sito, un dipartimento di economia che è in via di ristrutturazione è preseduto dal professor Alberto Fera, è un dipartimento ricerca, è preseduto dal professor Giorgio Calabrese, con una serie di scienziati, ho posto qui ad allungare, basta che andate sul sito e verificate. Da qualche giorno, visto le tante richieste che arrivavano, si è dotato anche di un dipartimento di relazione internazionale. Questo dipartimento di relazione internazionale è preseduto dall'ex ministro che tutti voi, tutti voi, si siete abbastanza, si siete giovani, ma l'ho ricordato di Giulio Terzi di Sant'Agata, che è stato ammattatore italiano a Washington, a Tel Aviv, eccetera. E la direzione, con uno staff di collaboratori, c'è il professor Valerio Veluca che ora porterà uno saluto con la presenza del sottosegretario Benedetto della Medova. Peraltro il professor Veluca vi annuncerà anche la prima iniziativa che sarà presso la Camera dei Deputati del Dipartimento di relazione internazionale, dove siete deputati ed è un'iniziativa di altissimo profilo, però questo lascia poi a Deluca dire la sua su questo. Io intanto vi do il benvenuto, non so se tutti voi eravate presenti alla spumeggiante, definiamola così e ci fermiamo qua a lezione di Sgardi. Ma a Sgardi è così, bisogna prenderlo a tutto tondo, nel bene e nel male. Io sono tanti anni che lo frequento e dunque conosco quali sono i pregi, mi rinvito qua, del professor Sgardi. Da oggi iniziano le lezioni vere e proprie che grazie a un enorme volo di lavoro caricato sulle spalle del nostro direttore di Simone Santucci abbiamo messo in piedi. Dovete anche capire che spesso tutto questo si confronta, si rapporta con difficoltà sovravenute. Quando fai un corso di lezioni come quello che ha predisposto Simone e d'accordo con tutti noi, succede che poi un docente ti dice disposti da questo lume lì all'altro, mi anticipi. Ovviamente se questo succede all'università poco male, quando succede con lezioni di questo genere, mette un po' oggi stesso ad esempio il sottosegretario, il viceministro, ora sottosegretario, il viceministro con l'ultimo governo. Eccolo qua, l'onorevole dell'Amedo che ringraziamo per te. Benvenuto, che ringrazio in maniera particolare. Te ringrazio in maniera particolare perché avevamo programmato un altro intervento, un'altra lezione ad hoc, si chiedeva nella Medova, però si è prestato con una cortesia dovuta non soltanto all'amicizia personale ma anche alla sua partecipazione attiva a tutte le battaglie, veramente a tutte le battaglie di libertà in questo Paese. Io l'ho sentito parlare pochi fatti, ho visto al Tg1 mi pare, ho visto il Tg1 delle 13.30 e anche la vicenda di queste ore che avrete ascoltato e che riguarda il DJ Fabbo l'ha visto impegnato, però sono legate a della Vedova, dicevo, le battaglie di libertà più importanti di questo Paese, per cui non è solo un dato di amicizia, è un fatto perché rispetto a tanti giovani, oggi abbiamo il tirone, come vedete, rispetto a tanti giovani della scuola di liberalismo, l'onorevole della Vedova si è prestato e si presta molto a un richiede, dunque siamo doppiamente grati per questo suo impegno. Io a questo punto mi fermo qua, lascio la parola come dicevo al professor De Luca che presenterà il dipartimento, presenterà anche la prima iniziativa di questa nostra partecipazione, come diceva il Presidente abbiamo di recente costituito un dipartimento di relazioni internazionali, di cui che dirigo personalmente, insieme al Presidente del Dipartimento che è il Ministro degli Esteri del Governo Monti e ambasciatore terzi. Un dipartimento che nasceva dalla necessità in qualche modo di confrontarsi, di confrontare i principi di liberalismo classico con tutta una serie di nuovi sconvolgimenti che stanno in qualche modo aprendosi negli orizzonti internazionali, dalla Brexit, dalle nuove elezioni della Presidenza Trump ed ancora da queste ultime notizie che riguardano una sorta di ipotesi di un'Europa a due velocità, senza per contare le incertezze che riguardano il tema del terrorismo, le minacce ambientali, l'inquinamento e quindi tutta una serie di tematiche globali che in qualche attraversano in maniera trasversale tutti gli Stati e quindi pongono in crisi in qualche modo sia la razionalità politica sia il quadro dei rapporti internazionali. C'è un vuoto che è stato colmato dall'interno della Fondazione, quindi ringrazio il Presidente di questa opportunità. Poi tra l'altro abbiamo la coordinatrice del Dipartimento, anche una studente della Scuola del Liberalismo, dalla Dottoressa Capone e quindi partiremo e lanceremo il primo nostro evento di inaugurazione, sarà guidato anche lei, il Sottosegretario, proprio alla Camera dei Deputati, il tema è politica internazionale ed investimenti esteri, saranno presenti il Presidente dell'ISPI, il neo Presidente dell'ISPI, Gian Piero Massolo, nonché Presidente di Fincantieri, l'amministratore delegato e Presidente di General Electric Italia, Stefano Scalera che è il consigliere di Ministro Pado anche di investimenti esteri, un professore molto importante che viene da New York che è Dominic Salvatore, Modera Paolo Messa e si stanno le conclusioni dell'ambasciatore terza. Il 7 marzo sono molto lieto, come diceva il Presidente, di voler estendere attraverso il Dottor Santucci questa opportunità di partecipare a questa nostra iniziativa, essendo un incontro in qualche modo bisogna la necessità di registrarsi perché la Camera dei Deputati sarà piacere fare questa attività congiunta all'interno della Fondazione. A questo punto lascio una parola. Grazie. Ovviamente siete tutti invitati ma poi tramite i canali della scuola vi daremo i dettagli, di locandina, ovviamente è necessario l'accredito, se non è una sede istituzionale. Allora, io sarò brevissimo, ringrazio il sottosegretario della Vedova, ovviamente non potevamo non partire dall'Europa, che un po' sembra il malato dello scenario politico, politico attuale, dello scenario politico internazionale attuale. Ovviamente la platea immagino, credo, quasi mi auguro sia una platea europeista, il pubblico liberale è un pubblico tendenzialmente, storicamente un pubblico europeista. Ovviamente il sottosegretario oggi forse non si tratta più di dirsi europeisti ma di avere una visione di quale Europa si vuole, perché abbiamo di fronte a noi delle declinazioni differenti tra chi vuole l'Europa delle nazioni, l'Europa dei popoli, l'Europa federale, l'Europa come Stati Uniti d'Europa. Il sottosegretario se ne è occupato, ma già prima del suo incarico di governo è da sempre stato, insomma, avete di fronte a voi uno degli esponenti forse più europeisti del panorama italiano per la sua militanza di lungo corso all'interno di formazioni politiche che vedevano l'Europa insomma come la salvezza. Vedevo in questi giorni, soprattutto sui social network, un'immagine, un piccolo grafico dove in nero c'era il periodo di guerra, in bianco c'era il periodo di pace, si partiva se non sbaglio dalla pace di Vesfalia fino ai giorni nostri. Ovviamente il periodo più lungo, il trattino bianco più lungo era proprio quello subito dopo l'entrata in vigore dei trattati di Roma, periodo sicuramente di pace. L'Europa unita, o comunque come la crediamo noi unita, ha garantito certamente una pace che nel nostro continente a livello storico non si era mai vista. Però vorrei un attimo scomodare Montanelli quando parlava della pace italiana durante la dominazione spagnola, l'importante è che non sia la pace nel cimitero, perché oggi anche i più ottimisti, anche i più europeisti vedono nell'Europa quasi, mi auguro di no, io personalmente quasi sono convinto, un morto che cammina. Le scadenze elettorali che vedranno il rinnovo della presidenza francese, del cancellierato in Germania, abbiamo visto che la Merkel, che se non sbaglio, è in carica dal 2005, era in vantaggio con i sondaggi, Martin Schulz dopo la sua chiusura da presidente del Parlamento europeo è entrato in campo e i sondaggi stanno cambiando, segno evidente che anche tra le forze europeiste che erano un po' schiacciate contro i populismi, Germania in tre governi Merkel, due sono stati di grande coalizione con i social democratici, quindi è evidente che anche lì sta cambiando. In Italia, la storia di questi giorni, scissioni eccetera, ovviamente inneboliscono il panorama politico delle forze europeiste che sono viste, il Partito Democratico, ricordiamolo sempre, è a livello di numeri il più grande partito del centro-sinistra europeo e ovviamente una scissione ci fa stare sotto i riflettori, inevitabilmente. In che stato è l'Europa? Come vorrà l'Italia contribuire a questo cambiamento, se ci deve essere un cambiamento o comunque a questo rafforzamento delle politiche europee? Ce ne parlerà Benedetto della Vedova, che ringrazio ancora e a cui cedo la parola. ringrazio io alla fondazione, al presidente e tutti voi per questo invito, sono stato ben felice anche consentendomi l'agenda, anche se per un periodo limitato di tempo, perché poi ho un altro appuntamento, ma di essere io a avere l'onore di inaugurare la scuola di liberalismo della fondazione e di farlo su un tema, non solo che sta molto a cuore a me, credo magari anche a qualcun altro, ma su un tema che secondo me è diventato e lo sarà nei prossimi mesi centrale nella discussione pubblica e nella discussione politica. Io leggo solo una frase presa dal Trattato sull'Unione Europea, ispirandosi alle eredità culturali e religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto. Io credo che il liberalismo einaudiano è molto qui dentro, è molto in questo punto del preambolo del Trattato dell'Unione Europea. L'Unione Europea è il malato, il grande malato. Io credo che sarebbe molto meglio pensare che l'Unione Europea oggi deve fare il medico rispetto ai valori di libertà, di democrazia, di diritto, di Stato di diritto, di multilateralismo, di libertà dell'individuo in quanto individuo e non in quanto appartenente a una nazione. perché se mai l'Europa non divenisse il medico, e io credo che lo sia e lo possa essere nei prossimi anni e poi cercherò di dire perché, se il medico stesso sopravvive, naturalmente come dici tu, se l'Europa non riuscirà a fare il medico, il destino del paziente rischia di essere quello in fausto, la prognosi è in fausta per le libertà degli individui, a prescindere dal fatto che questi individui appartengono a una nazione. Dico questo ovviamente senza troppa fantasia perché noi che siamo cresciuti guardando dall'altra parte dell'Atlantico, noi generazionalmente lo tendono, e vedendo dall'altra parte dell'Atlantico, a Washington negli Stati Uniti, il baluardo della libertà individuale delle persone e il motore di diffusione della cultura e della prassi delle libertà dello Stato di diritto, del diritto, vediamo oggi tutto questo messo in discussione, cioè questo ruolo degli Stati Uniti messo in discussione programmaticamente. Mentre arrivavo qui ho letto un'agenzia in cui si diceva che l'amministrazione Trump ha previsto, prevede di aumentare in modo molto consistente le spese militari e di farlo tagliando i programmi che non sono di cooperazione internazionale ma tutta la partecipazione americana e i programmi internazionali. Ed è quindi una scelta molto precisa che risponde a un input ideologico molto preciso ed è una scelta tutta nazionalista o etnonazionalista se davvero dovesse essere perseguita. Io spendo di più per difendermi e rinuncio a avere una proiezione internazionale ritirandomi da tutti quei programmi che prevedono anche spese, che vedono quei volti sul piano internazionale sul piano internazionale, gli Stati Uniti. Perché, come dice Bannon, gli Stati Uniti non sono un pezzo della globalizzazione ma sono una nazione innanzitutto con l'economica. siamo passati rapidamente e nell'ambito dello stesso partito, quello più istituzionale degli Stati Uniti, i repubblicani, dall'esportazione della democrazia nel mondo come proiezione internazionale quasi a una indifferenza per la democrazia nel mondo. Questo spiega il ritiro. Poi all'interno, su base non universalistica ma etnonazionalistica sicuramente la discussione sulla libertà resterà viva. Ma io credo che, inaudianamente, l'idea della libertà in un paese solo e del liberalismo in un paese solo è un'idea che rischia di avere le gambe poste e fare poca strada. Da questo punto di vista l'Europa, e io non sono europeista per passione e per convinzione soltanto. Lo sono per interesse. Interesse del mio paese interesse è interesse come individuo e l'interesse è a quello a continuare a vivere in un mondo in cui naturalmente tutto è relativo ma in cui l'elemento di fondo sia la libertà, lo stato di diritto, cioè l'ancoraggio delle istituzioni alle costituzioni e alle leggi, argine dell'arbitrio dello Stato sulle persone. Lo sono perché credo che questo sia l'interesse del mio paese, dell'Italia, perché una media potenza come la nostra, destinata a diventare una piccola potenza nei grandi numeri della demografia e dell'economia nel giro di poco, si condanna alla totale irrilevanza sullo scenario mondiale, a non essere un attore di quello che succede fuori dai propri confini l'Italia da sola e ad essere spettatore e magari a chiedere clemenza alle potenze che nel frattempo si stanno formando. Io credo che l'interesse dell'Italia coincida con l'Unione Europea. Se l'interesse dell'Italia è di rimanere un attore, io credo che l'interesse dell'Italia sia nella forza dell'Unione Europea, che è a rischio, ma ci veniamo dopo, l'Unione Europea e quindi anche la sua forza. Se l'Italia ha l'ambizione di avere una vera capacità di difesa da teoriche offese, penso che di fronte alle offese che possano venire da est o da sud, è evidente che non potrà essere l'Italia, dovessero venire, magari non vengano, perché non può essere l'Italia da sola a difendersi rispetto alla scala delle potenziali minacce di varia natura o pressioni di varia natura. La scala europea, diciamo, per i prossimi 50 anni probabilmente è una scala adeguata o per i prossimi 30 anni a una scala adeguata anche rispetto alla difesa dello Stato e dei cittadini. Dal punto di vista economico, e qui purtroppo l'amministrazione Trump ha già segnato, cancellando il TPP, ha già segnato una profonda discontinuità e inversione di marcia rispetto a quanto uno si aspetta dagli Stati Uniti, cioè di essere i promotori della libertà economica, non solo nella propria contea per contea, ma di spingere per avere libertà economica e libertà di scambio sul piano internazionale. Anche dal punto di vista del commercio internazionale, io credo che l'interesse dell'Italia coincida con l'Unione Europea forte, perché è così che si possono avere accordi commerciali come quello appena chiuso con il Canada o quello fatto tra l'Unione Europea e Corea del Sud, insomma, medie potenze, o come quello che temo non si farà più il TTIP con gli Stati Uniti. È evidente che in quella scala, cioè del principale mercato del mondo, della principale forza produttiva tutto assieme del mondo che è l'Unione Europea, si può pensare ad avere degli accordi commerciali in cui la capacità di negoziazione sia forte rispetto, come ci viene sempre detto, agli standard ambientali, di lavoro, eccetera, eccetera. vedremo quello che succederà con la Bretagna naturalmente, ma è evidente che un paese come l'Italia potrebbe alla meglio accettare benevolenti offerte di accordi commerciali, ma non essere un protagonista di questi accordi commerciali. L'Unione Europea è destinata a rimanere e a continuare a essere se sopravviverà un big player degli accordi commerciali e a spingere per evitare che sia solo la Cina a, in modo vero o meno vero, a essere frontman del libero commercio internazionale. Poi possiamo discutere se il commercio deve essere oltre che free fair, ma è evidente che se l'Europa dovesse cessare di avere un ruolo, a questo punto chi, penso anche da liberale come voi, mediamente crede nel libero commercio, a questo punto dovrebbe chiamare Pechino e dire beh, no, ci hai dato una mano a tenere aperto il commercio mondiale o torniamo a una fase di protezionismo su basi etronazionaliste. Ma potrei proseguire per argomentare come a mio avviso, a maggior ragione in un occhio di libertà, l'interesse degli italiani e dell'Italia coincide con un'Europa forte e non come molti che hanno voce potente ripetono instancabilmente in questi tempi che l'interesse dell'Italia e degli individui sarebbe quello di uscire dall'Unione Europea, uscire dall'Euro e chiudersi tutto. C'è un elemento di diritto a mio avviso anche da sottolineare che è il seguente, noi abbiamo la Corte Europea dei diritti dell'uomo che non è un'istituzione dell'Unione Europea come voi sapete, ma non è un caso che la campagna di Michael Gove e dei conservatori britannici che poi ha portato, poi loro sono stati travolti da un inaspettato successo, nessuno di loro pensava di fare la campagna, pensavano di fare il congresso interno anziché scindersi, come ha fatto il PD, hanno detto vabbè ci contiamo nei referendum sulla Brexit, i colleghi britannici, alcuni anche tra i conservatori direbbero che è proprio così, altri direbbero una cosa, però anziché scindersi hanno fatto la conta e gli è overshooting da parte di Gove e del sindaco Boris Johnson che peraltro era notoriamente il più filoeuropeista essendo sindaco della città più cosmopolita e europea del Regno Unito, cioè Londra. Ma la campagna era cominciata contro la Corte Europea dei diritti dell'uomo, quella di Strasburgo, molti più paesi dell'Unione Europea, l'Unione Europea in quanto tale anche, ma anche altri paesi, arriva fino alla Russia, nella idea che i sudditi di sua maestà non potevano accettare che vi fosse una Corte esterna a cui la Gran Bretagna partecipasse, ma che non fossero giudici sudditi anch'essi dell'Unione Europea, a giudicare sui diritti degli individui. Voi sapete che la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con dei limiti naturalmente, ma può essere adita dai singoli, dei singoli in Italia. Berlusconi ha chiesto, e stiamo in attesa, lui soprattutto, in attesa del giudizio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, di poter verificare che la sua condanna, per una serie di ragioni, sia una condanna contraria ai diritti dell'uomo, alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E qualora quella Corte dovesse deliberare in favore del cittadino italiano Berlusconi, lo Stato italiano sarebbe obbligato in virtù della Convenzione ad adempiere. Ecco, questo per esempio io trovo sia un grandissimo principio liberale. Quello di corti con efficacia e non come volevano gli inglesi, adesso hanno un po' rallentato la fuoriuscita dal Consiglio d'Europa e quindi dalla Corte dei diritti dell'uomo, per non esagerare, ma c'è un filo rosso che lega tutto questo. Io credo che sia un principio liberale l'idea che il diritto non abbia il confine nazionale, che i diritti che appartengono agli individui possano essere riconosciuti in un ambito di accordi e di regole, ma anche da istanze giurisdizionali che travalicano i confini. Noi siamo, tranne che dentro l'Unione Europea, nel mood opposto. Cioè l'idea che il diritto è un diritto nazionale, nazionalistico, etnico io dico. E questo è un principio che può dare origine a una deriva pericolosa, perché allora tu hai il diritto per i nativi e il diritto per gli stranieri anche nello stesso paese. Il passo è brevissimo, tu puoi pensare, secondo me qualcuno ci pensa, anzi siamo ai margini, per il momento questo viene messo già nero su bianco, ci sono diritti diversi, goduti in modo diverso da persone che stanno sullo stesso territorio, a titolo di ius sanguinis, di appartenenza etnica. Ecco il multilateralismo nelle istituzioni e nel diritto è un altro principio che se dovesse venire meno l'Unione Europea non godrebbe più di buona stampa o di alcuna stampa in giro per il mondo. E questo dal mio punto di vista è un'altra delle ragioni per cui l'Europa è potenzialmente il medico, non il malato. L'Europa, secondo me non voglio farla troppo lunga e lasciare spazio alle domande, se ce ne sono, l'Europa appare in malato. Allora io sono molto insoddisfatto dal cittadino europeo dell'efficacia, della trasparenza, della democraticità delle istituzioni europee. Sono molto insoddisfatto. E la mia insoddisfazione è seconda solo all'insoddisfazione per quello che non siamo riusciti a fare, che non sono riusciti a fare negli ultimi 20-25 anni nei confronti, gli italiani nei confronti delle istituzioni italiane, italiani, cittadini, elettori, politici, ministri, parlamentari, eccetera. Per cui se sono insoddisfatto di quello che io ho fatto anche in campagna per il sì, qualcuno no, ma insomma se sono insoddisfatto della situazione istituzionale, politica, di trasparenza, di burocrazia e di libertà dell'Italia, ovviamente lo sono anche dell'Unione Europea, dell'istituzione dell'Unione Europea, ma con un atteggiamento analogo. Non è che io mi metto a fare la guerra ai burocrati cattivi dell'Unione Europea che sono 60.000 super giù tanti quanto sono i burocrati del Comune di Roma, incluse le partecipate. E tendenzialmente quei burocrati che stanno a Bruxelles o a Francoforte non scioperano il venerdì, non si ammalano quando c'è la partita della nazionale, anche perché comunque non si capirebbe di una, timbrano i cartellini, tendenzialmente non lo fanno timbrare ai colleghi, hanno fatto dei concorsi veri nel 99% o 95%, parlano mediamente due o tre lingue, hanno mediamente una buona conoscenza dei principi basilari del diritto dell'Unione Europea e io non credo che tutti i burocrati del Comune di Roma abbiano i rudimenti nemmeno della Costituzione, ma non ne faccio una colpa loro e potrei proseguire tasso di assenteismo, tasso eccetera eccetera. Per cui a me questa storia dell'Europa e dei burocrati sa tanto questa come quella su cui dirò dopo dei cetrioli e delle banane, sa tanto avrebbe detto il nostro faro Luigi Enaudi di fantoccio polemico, perché è facile fare il fantoccio polemico, ecco l'Europa e i burocrati, noi vogliamo la democrazia, io sono lombardo, i burocrati del Pirellone sono stati presi mentre, e lì non c'entravano più di tanto i politici, mentre facevano soldi corrompendo e distraendo fondi pubblici, tasse dei taxpayers italiani e lombardi nel racket delle dentiere per gli anziani indigenti. Poi discutiamo sulla burocratizzazione, io che dovrei essere o vorrei essere un politico libertario, addirittura liberale, ovviamente so che la dialettica politica burocrazia, anche la migliore burocrazia, è una dialettica vitale di qualsiasi paese e va mantenuta vitale, il contrasto va alimentato con polemiche e misure serie però, non dicendo che dall'Italia noi ce la prendiamo con i burocrati europei. Altro elemento del fantoccio polemico è quello che riguarda la regolamentazione, la famosa questione delle banane, degli cetrioli e delle vongole, l'Europa si occupa di questo mentre succedono tante altre cose, l'Europa e il Parlamento europeo, a parte il fatto che se uno andasse a vedere i progetti di legge e le leggi approvate dal Parlamento italiano e dalle quante regioni più le province a strutturato speciale e il grado di dettaglio di tutta questa normativa e usasse questo verbo, polemico mio amico Salvini, al quale giustamente la burocrazia europea accudisce nella sua libertà e nelle sue prerogative funzionali ed economiche di parlamentare europeo da più lustri, perché lui era stato eletto in Italia mi ha preferito tornarsene, se non si capisce, ma siccome l'Unione europea è un posto libero e liberale, il posto dove possono fare politica gli anti-europeisti è il Parlamento europeo, fuori dai Parlamenti nazionali, ma dentro il Parlamento europeo, ed è giusto che sia così costitutivo dell'Unione europea, gli anti-europeisti hanno una libertà che altrove non hanno, perché la legge è stata la proporzione, ma questa cosa della guerra alla burocrazia europea in nome delle leggi è un altro elemento della caricatura, noi abbiamo registrato la settimana scorsa il dato straordinario di export italiano, il record storico percentuale dell'esportazione italiana, di questo record fa parte grossomodo oltre il 50% di esportazioni verso l'Unione europea e l'export agricolo è cresciuto ancora di più della media, ovvio che per esportare e per creare un mercato unico ci vogliono regole uniche su tutto, e siccome molte barriere al commercio, in particolare al settore agroalimentare, non sono più i dazzi, ma sono tutte le norme fitosanitarie sul packaging delle uova o sulla dimensione, è evidente che tu devi fare una regola standard, così non ci sono più alibi, non ci sono più rotture di sballe, ha maggior ragione per un paese come l'Italia che ha produttori anche nel settore agroalimentare piccoli, cioè quelli robusti, vanno e si fanno largo e si fanno strada da loro, noi abbiamo due o tre grossi multinazionali dell'agroalimentare, due o tre, il resto della produzione sono aziende che non hanno quella dimensione lì, quindi concorrono se hanno un level playing field, se ci sono regole uguali per tutti, questo è tutto, poi ci saranno regole sbagliate, assolutamente sì, dopo di che uno prende l'elenco dei provvedimenti legislativi dell'Italia sull'economia italiana dove c'è riserva di legge e andiamo a vedere se le leggi sono meno di dettaglio, se sono fatte sotto pressione delle lobby o no, territoriali o settoriali, o se sono fatte per garantire la libertà economica o per concorcarla, e allora facciamo una comparazione e forse ci rendiamo conto che anche questo è un facile elemento del fantoccio polemico che si fa dell'Unione Europea per cercare di colpirla con le armi delle fake news o comunque quei colpi sotto la cintura, c'era stato il caso bellissimo della regolamentazione delle vongole, il Parlamento Europeo spende tre giorni, che poi magari sono tre giorni davvero, noi ci abbiamo speso tre anni, per la regolamentazione delle vongole, dopo di che si è capito che la regolamentazione delle vongole era quella italiana, estesa a livello europeo, ma i produttori dell'Adriatico di vongole vogliono vendere le vongole in Germania e se i tedeschi dicono perché le prendono da un'altra parte che la dimensione deve essere A o B, allora tu devi occuparti umilmente nell'interesse del libero mercato, del mercato unico e della libertà e della correttezza della concorrenza anche di regolamentare quella roba lì, ma non è che al Parlamento Europeo si fa questo. In più, ogni singolo pezzo di legislazione europea, come voi sapete sicuramente, non è che lo vota il Parlamento Europeo, solo. L'ultima parola ce l'ha il Consiglio dell'Unione Europea dove ci stanno i ministri di tutti i paesi, quindi alla fine, qualsiasi cosa, l'ultima parola ce l'hanno, io potrei dire purtroppo o no, ma ne discutiamo un'altra volta, ce l'hanno i singoli paesi, i singoli ministri dell'agricoltura che sono certo, stanno lì a discutere se la vongola deve avere due millimetri in più o due millimetri in meno in base alle esigenze dei propri produttori, se le fanno piccole vogliono ridurlo, se le fanno grandi dicono no, facciamole più grandi così vincono i miei produttori sul cuore. Eppure queste sono alcune delle ragioni principali su cui si fa ancora oggi la polemica contro l'Unione Europea. I due Parlamenti, io quando ho fatto il Parlamentare Europeo, per Radicale, noi tutti gli anni sul bilancio europeo sfracassavamo a tutti perché si superasse questa cosa delle due sedi del Parlamento Europeo che non ha più senso. Mettere Strasburgo sede del Parlamento Europeo aveva un senso, Strasburgo è sul confine tra Francia e Germania, l'Europa nasce per provare a capire se era possibile che in particolare francesi, tedeschi e poi tutti gli altri smettessero di sbudellarsi ogni vent'anni perché l'hanno fatto la generazione di miei genitori. Di mio padre si è sbudellata nel 1943, nella seconda guerra mondiale, la generazione mio nono l'ha fatto nella prima guerra mondiale e allora si era deciso di provare a pensare a una cosa diversa. Niente più sbudellamenti, mercato unico, comunità dell'energia non è andata bene, non si è fatta l'unione militare, è partito il mercato unico eccetera. E quindi si è scelto di mettere il Parlamento lì sul confine tra Germania e Francia perché quello, l'Alsazio, la Lorena, era l'emblema dell'Europa che si specificava. Passati decenni oggi c'è una questione di razionalità. Ma secondo voi, siccome la sede del Parlamento i francesi hanno voluto che fosse scritta nei trattati e siccome i trattati vanno cambiati in quella parte lì ha l'unanimità, credo proprio all'unanimità. Chi è che non vuole rinunciare al... andate a spiegare alla Le Pen parlamentare europea da sempre come il padre che bisogna togliere Strasburgo per ragioni di razionalità e fare il Parlamento a Bruxelles accanto alle altre istituzioni. Invece di no. Noi ci proviamo con Chirac che non era un lepenista. Già mai. Quella storica. E quindi ci teniamo due sedi al Parlamento europeo. E noi europeisti cerchiamo di dire ma caspita mettiamone uno e ci becchiamo i nazionalisti che, non so usare un'espressione adatta a un pubblico di questo tipo, la prendiamo in saccoccia perché loro ci impediscono di fare una misura di razionalità e poi fanno le campagne elettorali dicendo l'Europa è quel posto folle dove ci sono due trattamenti. Dov'è che si firma? Ma sono loro. Non Salvini in questo caso lo ha le penne. Stanno nello stesso gruppo parlamentare. Pensate che facciano la battaglia per chiudere Strasburgo e rimanere tutti a questo. Allora, è evidente a mio avviso che la campagna contro l'Europa in questo senso è una campagna ideologica e pericolosa. Churchill che era un grande europeista e disegnava l'Unione Europea poi qualcuno dice sì ma lui pensava l'Unione Europea senza la gravità. Però era un grande europeista, aveva un disegno che dopo la seconda guerra mondiale, quello dell'Unione Europea allora in embrione ma gli Stati Uniti d'Europa diceva lui perché era il modello più... Churchill diceva che la monocrazia è una schifezza tranne tutto il resto. Ma è meglio di tutto il resto. Io lo penso della democrazia, ovviamente lo penso anche delle attuali istituzioni dell'Unione Europea. sono una schifezza, ma meglio di tutto quello che c'è stato prima e che verrebbe dopo se a vincere fossero quelli che vogliono rimettere i muri e poi fare le guerre valutarie. Perché? Dicono ah, riappropriamoci della sua urbanità monetaria, così esportiamo, svalutiamo, noi siamo furbi, un ragionamento se va bene da anni 80. Svalutiamo e quindi esportiamo di più. Dove? negli Stati Uniti, e noi pensiamo che quel nostro 50% di export che va in Europa, i tedeschi sono lì pronti a svalutare e poi prendere tutte le merci italiane, no? E magari chiudere un'azienda tedesca perché gli italiani che sono furbi, sono usciti dall'euro, svalutano e vendono in tedeschi. Questa è la parte costruenz, dovrebbe essere questa. La parte destruenz è chiarissima, falliamo perché abbiamo un debito enorme, ritorniamo a pagare interessi, poi diciamo no ma tanto cresciamo attraverso la svalutazione che ci consente di esportare. la svalutazione più l'inflazione abbattono il debito pubblico eccetera eccetera, poi se qui c'è qualche pensionato vorrei che mi mette, però uscita dall'euro, che mi mettesse per iscritto che lui è pronto per i prossimi 30 anni in cui starei in pensione, anziché a prendere i suoi euro, tanti o pochi, appartiene a un'altra discussione. La sua pensione nella stessa moneta del pensionato della Volkswagen sia un pensionato della Fiat, lui pensa che invece è pronto a scommettere sul fatto che il pensionato tedesco continua a prenderli in euro e lui gli prende in mare di Padani o nella lira. Io se dovessi consigliare a mia nonna gli direi guarda ti lamenti che la tua pensione è bassa, ok ne discutiamo un altro momento, però tutta la vita prendi la in euro, con lo stesso valore e la stessa inflazione dei francesi e dei tedeschi. Io magari ho ancora un po' di anni davanti e posso giocare alla mia partita, tu no, sei in pensione, ottieni l'euro. Perché questa è la seconda ragione di attacco, dopodiché il dato dell'export, casuale o no, frutto io credo anche di una buona azione del governo in questi ultimi 4 anni, c'è il boom dell'export e grazie per esempio agli accordi di commercio internazionale che sono stati fatti tra l'Unione Europea e Corea, l'Italia ha aumentato il proprio commercio con la Corea molto di più di quello degli altri paesi, perché poi gli italiani se gli prepari un po' il terreno sono molto bravi e svegli. Però voglio dire, io penso che si debba lavorare per rendere, lo penso delle istituzioni italiane, delle politiche italiane, dei parlamenti italiani, bisogna lavorare a maggior ragione per rendere più efficaci, più democratiche, più immediate, con sforzi di fantasia le istituzioni dell'Unione Europea, con sforzi di fantasia senza replicare schemi meccanicamente degli Stati nazionali o di Stati federali come gli Stati Uniti, si può fare la Light Federation, tutto quello che volete e penso che sia urgente fare questo perché si dice c'è uno scollamento tra i cittadini e le istituzioni europee e questo ci porta a dire indiamocene, però se tu guardi le analisi ti spiegano che negli Stati Uniti c'è uno scollamento tra il popolo e Washington, a Roma non parliamo, ma c'è uno scollamento tra la politica e i cittadini e le istituzioni, a Parigi è uguale, quindi è evidente che siamo dentro un contesto complicato, poi bisognerebbe capire le profezie che si autoverano eccetera. È evidente comunque che bisogna lavorare sulle istituzioni europee per avere le migliori, più belle, con un po' più di fantasia, che funzionino meglio, perché abbiamo bisogno per esempio, secondo me, di strumenti di sicurezza comune. Trump dice basta, adesso spendete un po' anche voi, in modo più costruttivo diceva anche Obama e c'ha ragione. Io credo che il primo modo per spendere di più nella difesa sia di spendere meglio, cioè mettere assieme le spese, anche attraverso una ristrutturazione dell'industria militare europea. Penso che siccome il problema dell'immigrazione è un problema che ci riguarda da vicino con l'Italia, ma per ragioni geografiche, mica perché vogliono tutti trasferirsi in Italia, che quel tema vada affrontato a livello europeo, altrimenti sarà rischiosissimo. Penso che ci voglia l'Europa anche per affrontare i nuovi sistemi di tassazione del robot o della web tax, ne discutiamo un'altra volta, ma abbiamo di fronte, soprattutto con l'economia digitale, giganti, enormi, c'è una deterritorializzazione del posto dove ti offrono servizio tendenzialmente la California e dove usufruisci di quel servizio sul telefono che è qui, che è Google, la pubblicità, Uber, tutte le cose. Anche qua secondo me è la dimensione europea, se no noi possiamo solo stare lì e sperare di fare i vassalli di qualche feudatario benevolo. Bisogna cambiare tantissimo, rivoltare l'Europa come un calzino esattamente come vogliamo fare per l'Italia, l'Unione Europea intendo le sue istituzioni. Ma solo difendendo quello che c'è si potrà fare questo. Chi dice contro quest'Europa, in nome dell'Europa di Spinelli e anche tanti miei amici, io credo che qui odora sul piano politico sta sull'agenda di chi dice contro quest'Europa, perché poi si vedrà. Penso che solo chi vuole bene all'Europa e ne capisce oggi più di ieri il valore di medico del mondo libero e delle istanze liberali, solo chi vuole bene a quest'Europa e difende l'Europa che c'è, che è meglio dell'Europa che non c'era, cioè la guerra, e che è meglio dell'Europa che verrebbe geograficamente se non ci fossero più le istituzioni in guerre valutarie, poi guerre commerciali, etnonazionalismi e guerra, io penso questo, nei prossimi vent'anni. Chi ama l'Europa che c'è e quindi soffre per le sue lacune sarà chi potrà migliorare le istituzioni dell'Unione Europea. Chi detesta l'Europa che c'è vuole semplicemente che quello che c'è scompaia, scompaia storicamente e che tornino le patrie, le sovranità. Non sarebbe nulla di nuovo per l'Europa che fino alla Seconda Guerra Mondiale è andato indietro, insomma, poi la storia è complicata, Napoleone, Carlo Maia, non vuole arrivare anche a Giulio Cesare, ma l'Europa prima del processo di unificazione europea era esattamente quello, l'Europa delle sovranità nazionali. E non era una bella Europa, e non era l'Europa della libertà. Oggi, nella sua enorme imperfezione, abbiamo, credo invece, un'Europa della libertà, di movimento, di commercio, di pensiero, di stampa. E tutto questo credo non sia poco. Grazie. Grazie a questo segretario, anche perché penso lo condividiate tutti, non ha parlato come politico, non ha parlato come membro del governo, ha parlato come cittadino, che ha qualche idea rispetto al futuro dell'Europa, a quello che ci aspetta, abbiamo ricordato le scadenze importanti. Saluto il professore Alvazzi del Frate, che è docente della scuola di liberalismo e si occuperà, credo, intorno al mese d'aprile delle radici storiche del pensiero liberale, poi vi lo presenterò. Io direi di lasciare spazio a qualche domanda, spero ci sia, per il sottosegretario. Posso farne anche io? Certo Gianni, vai. Allora, io ho apprezzato molto il taglio... Penso che vi conosciate un po' bene, eh. Ci conosciamo. E ho apprezzato molto il taglio, diciamo, economico di questa lezione che mi ricorda le vecchie trasmissioni catalassiche che facevano l'attuale sottosegretario su Red Radicale. Però io volevo anche ricordare un'altra cosa. Il 2017 sarà l'anno del sessantesimo anniversario dei dettagli di Roma. Pare che uno dei temi sarà quello della cosiddetta Europa a due velocità proposto da Angela Merkel in qualche uscita. Allora, ecco, proprio al sottosegretario chiedo. Sarà una tematica che proporrà, diciamo, l'ipotesi, uno scenario di un'Europa a due velocità su un discrimine economico? Cioè, queste velocità verranno in qualche modo stabilite in base, non so, agli indebitamenti, agli avanzi primari e così via? O sarà una Europa a due velocità in base al riconoscimento dei diritti? Quindi, al riconoscimento dei diritti dei cittadini europei nei singoli stati europei? Quindi, degli stati che riconoscono, per esempio, ovviamente il tema dell'immigrazione viene ovviamente naturale, pensare a quello, all'accoglienza, niente muri, lo iussoli e così via. Ecco, qual è il sentore del sottosegretario? Ma, innanzitutto, per dire una frase fatta, ma che insomma va bene in questo caso, l'Europa a due velocità c'è già, cioè ci sono livelli differenziati di integrazione. L'Euro, l'Eurozona, l'Eurogruppo è un esempio di Europa a due velocità. Ci sono i paesi che hanno addirittura la moneta unica, condividono la sua moneta monetaria e altri, gli inglesi o i polacchi, per parlare dei paesi più grossi che stanno fuori dall'euro, non hanno la moneta unica. Questo è già un elemento, e non è questo in discussione, la Merkel ha perfino dovuto chiarirlo, ma era evidente che non si riferisse a questo. Schengen, aperto anche a non europei, a non paesi dell'Unione Europea, è un altro esempio di un accordo in cui ci stanno, posto che devi rispettare alcune condizioni tra stati, non tutti gli stati, scusate. Uno dei temi centrali però dell'euro di due velocità è ad esempio quello della difesa. Anche a trattati vigenti, senza modificare i principi base, è possibile pensare a una cooperazione strutturata permanente, questo è lo strumento che non è una cooperazione rafforzata. Comunque che alcuni paesi, senza arrivare subito all'Unione Militare, come c'è l'Unione Monetaria, cioè un solo esercito, però facciano chi ci sta una cooperazione rafforzata, anzi appunto strutturata, per andare nella direzione di avere una cooperazione militare sulla difesa. Questo per esempio è un elemento di cooperazione, di virgolette Europa della velocità, cioè di creare, considerando le difficoltà che ci sono, di creare un gruppo, non di fare dei passi indietro, non di integrazione, ma di consentire a chi o vuole di fare dei passi avanti. Certo, sull'area euro, e questo è una delle discussioni, ci sono anche un Parlamento europeo che non è un posto malvagio come ve lo descrivo, insomma, è un posto molto aperto di discussioni, posizioni anche ferocemente contrari all'Europa stessa e io credo che questa sia la migliore dimostrazione che il Parlamento europeo presidia libertà. Tu puoi andare lì e sputare sul Parlamento europeo senza che nessuno possa dirti nulla. Ha in queste settimane preso in esame una serie di relazioni programmatiche, poi certo decidono i governi, se i governi non sono d'accordo non si fa niente. Però l'idea che ci sia la possibilità di mettere in comune altre funzioni per noi sarebbe importantissimo se si arrivasse a una politica, a una polizia di frontiera unica che significa mettere in comune la responsabilità della protezione dei confini esterni e non affidarla ai singoli stati, dopo di che anche sull'asilo c'è l'accordo di Dublino, siglato, l'Italia era anche contenta dieci anni fa di più, insomma. Prevede che il cittadino possa chiedere asilo sostanzialmente nel paese europeo di primo approdo, siccome il primo approdo è dato dalla geografia, perché non è che la gente si sposta in aria, il primo approdo è dato dalla geografia e noi siamo il primo approdo e gli accordi che noi avevamo sottoscritto felicemente al suo tempo, prevede che tu puoi chiedere asilo solo. Quindi la cooperazione è un modo per andare avanti, l'Europa a due velocità e ha una possibilità di andare. Io personalmente penso che l'area euro dovrebbe fare dei progressi in termini di integrazione e anche avere un bilancio comune che possa servire, una politica comune che possa servire per affrontare gli shock che si verificano in modo asimmetrico tra i paesi, tra i vari paesi che hanno adottato l'Europa, quindi questa è la logica. Può essere un modo per uscire, è una proposta che è stata a molto posto italiana per tanto tempo, può essere un modo per uscire dallo Stato istituzionale. Mi penso che per l'uomo è molto difficile cantare un albero senza sapere se ne vedrà i frutti. Non è che la percezione nostra sia troppo sbilanciata a favore della idea di politica come amministrazione del presente e non come divisione del futuro? E beh, me la posso cavare con la battuta di un grande europeista antesignano dell'europeismo italiano che ha fatto il bene dell'Italia immediato dopo guerra, De Gasperi che diceva che un grande politico pensa alle future generazioni, non alle future elezioni. Però questa è una dialettica che c'è, che le democrazie non hanno risolto. Io credo però che si debba, che è quello che uno come me cerca di fare, insomma con i risultati, che si vedono o no, ma che l'interesse, che la visione coincide con l'interesse. E credo che se uno guarda le mappe che ormai sono fantastiche, si possono fare con strumenti da due soldi, le proiezioni del peso demografico ed economico di ogni singolo paese, capisce che è vero quello che, ripete spessissimo Emma Bonino, nell'Unione Europea ci sono due paesi, i paesi troppo piccoli e i paesi che non hanno capito di essere troppo piccoli ancora. Secondo me la visione porta lì, e lo dico sapendo di andare contro lo spirito del tempo, che invece ci dice, no, la visione, la sovranità, è una sovranità di cartone, di cartapesta, di celluloide, secondo me, e lo sarà anche per il Regno Unito, che pure ha tradizioni imperiali recenti. loro si sono accorti, per esempio, ripeto analisi che l'hanno fatto io, contestabili naturalmente, che uscendo dal, scegliendo di uscire dal mercato unico, dall'Unione Europea, hanno perso la sovranità monetaria. Dici, ma cosa c'entra la sovranità monetaria che loro non c'erano l'euro? Hanno avuto una svalutazione, che non era assolutamente quella che loro avevano auspicato, loro i bretti tieri. Perché è disancorata dall'idea di essere una moneta autonoma, furba, perché autonoma, ma in un sistema di mercato unico e di legame forte con l'area dell'euro. Il Giappone ha la sovranità monetaria, è molto più potente economicamente della Gran Bretagna, vive in condizioni in cui l'isolamento ha un senso per mille ragioni, a differenza della Gran Bretagna, il Giappone ha la sovranità monetaria, ha tutto quello che secondo noi bisognerebbe avere ed è flat come crescita ormai da 15 anni, 20 anni, e devono fare le riforme strutturali anche loro, le frecce dell'Abenomics, eccetera. Senatore, Luizio di Corato, Università Torvergata. Guardi, io come lei sono un europeista convinto, faccio parte della Generazione Radius, diciamo che è stato un programma che ci ha fatto conoscere la bellezza dell'Europa, ci ha fatto conoscere la bellezza della libera circolazione delle persone. Però oggi tiro la linea e vedo un attimo l'Italia in questo contesto europeo, rispetto alle altre nazioni e altri Stati, in realtà ha dei tassi di crescita notevolmente più bassi rispetto a tanti altri paesi, anche utilizzati come benchmark, magari non paesi dell'est, ma come Germano e Francia, ha un tasso di disoccupazione ancora altissimo, ha una incapacità di investimenti privati e pubblici assolutamente bassa. Ora, io mi chiedo, quanta responsabilità c'è da parte di mancanza di politiche industriali nazionali o magari rispetto a una pubblica amministrazione in Italia che non funziona, rispetto invece a condizioni capestro di trattati europei nei confronti di una struttura economica italiana che per forza di cose da quelle condizioni purtroppo non riesce a trarreggiovamento. Quindi io mi chiedo una forza politica che si pone alle prossime elezioni, eccetera, eccetera. E' giusto che proponga una revisione e una rinegoziazione dei trattati europei affinché l'Italia, ad esempio il 60% debito PIL, il 3% deficit PIL, affinché possa rilanciare il sistema paese. Io, vedendo i dati, dopo 15 anni di euro, dopo più di 20 anni di trattato di Maastricht, tra Germania e Italia, le dico circa qualche mese fa, a parità di costo della vita tra Germania e Italia, abbiamo dei salari medi della Germania che sono il doppio di quelli italiani. E' chiaro che c'è una disparità, l'Italia è un paese che sprofonda ulteriormente nella crisi rispetto agli altri paesi europei. Quindi mi chiedo, rinegoziazione dei trattati, è un tema sul cui seriamente dobbiamo impegnarci? E' quanto potere negoziare una nazione sola come l'Italia? Io so che questo sarà uno, e sarà una delle ragioni anche del concorso elettorale, il post-opteroc è facilissimo, ma siamo nell'euro, voi avete studiato filosofia, i sillogismi, i paralogismi, quindi sto, non abbiamo crescita, siamo nell'euro, non abbiamo crescita perché siamo nell'euro. ci sono, quando ne leggero stamattina uno, adesso non mi ricordo più chi l'ha fatto, altrimenti te lo giravo, però ci sono una serie di studi, di analisi, molto dettagliate, fatte da economisti di qualità, che mostrerebbero come questo grande danno, l'euro all'Italia, non l'avrebbe procurato più in termini di crescita. Se tu vedi la curva dei salari tedeschi e quella italiana, è più o meno sovrapponibile a quella dell'aumento di produttività. Punto. Cioè, i tedeschi nel 2000, insomma, all'inizio degli anni 2000, non stavano molto meglio di noi. Si sono messi di buzzo buono. Anche l'euro, l'Italia è stato un paese con un alto indice di indebitamento rispetto agli altri paesi europei, come la Grecia. Cioè, il fatto di aver detto voi paesi sovraindebitati dovete rientrare, perché male il debito. Ma sì, però questo, scusa se ti interrompo, è successo questo? No, il nostro debito è cresciuto, anzi si è stabilizzato al 133%, però adesso c'è una procedura di inflazione in corso. La procedura di inflazione è un'altra cosa che riguarda il deficit, il deficit strutturale, se ne può discutere, sono 3 miliardi. Io dico, siccome abbiamo i debiti e dobbiamo prestare i soldi tutti i giorni, forse, se con 3 miliardi facciamo la figura di quelli bravi, alla fine, quei 3 miliardi li recuperiamo in 6 mesi, se pensiamo, al di là della procedura di inflazione, che può esserci per cesare, sono sotto procedura di inflazione per esempio per eccessivo, non è che arrivano i casti blu, se invece pensiamo che, ah, noi l'Europa, c'è di là, dopo di che a punirci, non sarà la Commissione Europea perché la procedura di inflazione è ora che arriva, ma sarà chi ci presta i soldi, che dice, ah così, non rientri manco per 3 miliardi, allora sui tassi di interesse e ti bruci per i 3 miliardi, cioè, io non voglio dire tutto va bene a una marchesa, però uno deve offrirmi delle alternative che siano plausibili in termini di rendere la vita degli italiani migliore, e pensare che noi abbiamo un problema, che il nostro problema sia che dovremmo fare più deficit e più debito, non ci sto, perché non è così, magari dobbiamo fare, adesso al di là dei taxi perché viene facile dire poi dopo di che sbracchiamo tutto, ma perché gli italiani, non solo i politici, i politici mediamente rispondono a quello che anche a quello, la media dei politici risponde a quello che gli italiani non ha. Per cui secondo me è una questione malposta, poi possiamo discutere, tornare indietro, io per esempio avevo la fissa che siamo entrati nell'Euro, in quel momento dovevamo contrattare un cambio migliore, cioè svalutando la lira che invece è stata rivalutata, ma sono passati ormai tanti anni, abbiamo il record storico dell'export, quindi vuol dire che sto Euro tanto in giro per il mondo non ci penalizza, abbiamo il record storico in negativo di tassi di interesse, parametrato la dimensione del debito, io stavo, non so, fatico a capire, certo, possiamo essere così bravi da valorizzare meglio il nostro avanzo primario che c'è, che abbiamo solo noi tedeschi per capirci tra le grandi economie dell'Euro, possiamo fare tante cose, ma non riesco a capire chi dice che dobbiamo uscire dall'Euro o che il nostro problema è il fiscal compact che non ha ancora prodotto un danno, ma ha prodotto risparmi consistenti di interesse abbassando gli streghi. che cosa pensa è tutto flessibile, già flessibile, insomma, c'è un sistema flessibile, ripeto, però uno dice ah va bene così, no, non c'è niente che va bene così, però ditemi qual è l'alternativa e ne discutiamo, ma non può essere l'ideologia della sovranità monetaria, e se io sento i miei competitori in termini di discussione sull'Euro, dobbiamo riprenderci a spiegare e poi cosa te ne fai? Cosa te ne fai della sovranità monetaria? Berlusconi ha detto, prima ha detto le ham lire, poi si è reso conto che le ham lire sanno cosa furono al massimo quelli della mia generazione perché glielo ha spiegato il papà, a un certo punto circolavano le ham lire che erano le lire americane però vabbè insomma Berlusconi è simpatico anche per questo perché come tutti i grandi della storia e anche della politica replica gli schemi che funzionavano replica gli schemi che funzionavano ma le superiori insomma poi all'università adesso dice due monete teniamo l'Euro per i pagamenti esterni l'ha detto oggi Salvini l'ha detto già mai e introduciamo la lira una moneta nazionale per le per le per le regolamenti interni però non mi sembra una grande alternativa forse i tedeschi escono loro fanno uno spin-off forse però loro devono decidere loro nel frattempo noi potremmo solo decidere poi ci diciamo ci vuole una banca una vera banca centrale che stampi monete siamo all'helicopter per le mani per lui è il problema gli altri erano il problema della vera moneta unica che non c'era una banca centrale che comprasse titoli ci ha comprato tutti i titoli possibili immaginabili con grande rigore Draghi l'ha fatto muovendosi dentro il trattato che dice che l'obiettivo che la la missione principale della banca centrale è la stabilità dei prezzi indicando come stabilità dei prezzi intorno dell'infrazione del centro l'ultimo e poi devo scappare prego Alessandro alza un po' la voce così ti sentiamo anche nel microfono condividiamo gli stessi valori e a questo punto voglio dare un intervento di considerazione che è una domanda di taglio diverso rispetto a un'ercizio io credo che oggi in Europa si stia vivendo soprattutto una grande crisi di fiducia tra gli stati e tra i governi e infatti noi in Italia siamo anche un po' responsabili di questa crisi di fiducia perché la flessibilità l'abbiamo chiesta e l'abbiamo ottenuta con dei risultati come si ricordava un po' scadenti cosa fare per ricostruire questa fiducia tra i governi tra gli stati quindi anche tra i popoli perché senza fiducia non riusciremo a costruire questa Europa unita e questa Europa più efficace più efficiente anche a livello internazionale forse dobbiamo riusciare noi in Italia con la nostra politica con le nostre regole a dare il buon esempio e a costruire qualcosa che forse negli ultimi mesi negli ultimi anni da questo punto è stato appunto perso nonostante draghi alla BCE nonostante appunto questo massiccio di debito pubblico abbiamo avuto le condizioni migliori per fare le riforme strutturali ed ecco il debito pubblico rimane quello che è e non diminuisce abbiamo perso un treno stiamo perdendo un treno abbiamo perso le posizioni cosa fare per invertire la rotta e quindi regare fiducia anche ai nostri partner europei per capire che siamo in paese credibili ma io se devo dirla tutta è premesso che sono pronto io non sono un grande economista naturalmente ero un medio economista tanti anni fa a discutere di tutto di 3 euro 4 euro 5 monete un nuovo statuto della BCE del surplus commerciale della Germania di tutto ma io resto convinto che i problemi dell'Italia sono in Italia che noi abbiamo dei ritardi di cui è colpa nostra che uscire dall'euro non è la soluzione che la guerra in corso sia una guerra ideologica e potente e pericolosa nei decenni passati c'erano c'erano altre ideologie che minavano la tenuta dei sistemi liberali oggi oggi c'è un'altra ideologia secondo me che è l'ideologia io la chiamo etronazionalista sovranilista chiamata l'euro che secondo me è totalmente antistorica in generale lo è soprattutto per l'Europa se voi vedete i dati degli ultimi vent'anni cioè vent'anni fa l'Europa quando si maastricht eccetera era una potenza oggi lo è nel suo insieme i singoli paesi certo la Germania è nel frattempo cresciuta anche perché sia unificata è una potenza in termini di export di manifattura ma insomma in prospettiva perfino loro quindi il punto è di non usare come invece viene usato ed è facile usarlo l'Europa come capo espiattorio io non riesco a capire nessuno ma ancora convinto del fatto che noi uscendo dall'euro e uscendo dall'Unione Europea avremmo qualcosa da guadagnare non l'hanno ancora capito neanche gli inglesi per la verità e io non lo capisco io vedo esattamente l'opposto io vedo esattamente l'opposto cioè che grazie al fatto di essere inseriti dell'Unione Europea abbiamo un mercato in cui muoverci e i dati dimostrano che ci sappiamo muovere bene le nostre imprese naturalmente certo non spendiamo bene i fondi che arrivano perché noi siamo deficitari nonostante siamo un grande paese ricco mandiamo su insomma abbiamo un tra quello che mandiamo in Europa e quello che riceviamo ballano solo 2 miliardi insomma riceviamo anche tanti soldi magari non li spendiamo bene però certo siamo il contributore netto non lo piace ma che è beato sono paesi molto più poveri noi abbiamo regioni svantaggiate Marco di Veccia che ha un Milano e Lombardia che è una delle aree più ricche del mondo non solo dell'Europa presa a sé stanno io credo che noi abbiamo grazie all'Unione Europea continuiamo a avere il tempo ma non lo impieghiamo bene poi dopo ci diciamo guardi tu che stai a dove certo parlo io che sto a dove l'abbiamo usato bene per l'export per esempio ma è evidente che poi le difficoltà nelle riforme rimettere sempre tutto in discussione se bisogna mettere in discussione anche il Jobs Act eccetera eccetera non è il modo migliore per sfruttare il tempo che stare nell'Unione Europea ci consente stare nell'euro ci consente il tempo è il debito il tempo è il debito cioè se noi non avessimo avuto storica battaglia radicale dagli anni 80 per me l'anno 83 84 i radicali propongono una legge per il rientro dal debito pubblico che allora era 60 50 per 100 noi quel debito lì non riusciamo più a scollarci io penso e chiudo su questo che non chiedere di fare più deficit io credo che si debba concedere di più in termini di governance economica per avere una condivisione in parte ci sono tanti meccanismi e una corresponsabilità non una condivisione ma i tedeschi si incazzano una corresponsabilità sui debiti della zona euro e io penso che un paese come il nostro che ha grosso modo lo stesso avanzo primario della Germania cioè noi abbiamo un surplus primario se non consideriamo i tassi di interesse uguali a quello della Germania ha titoli per chiederlo quindi noi dovremmo continuare a manetta sulle riforme aumentare la produttività evitare tutti i vari furbetti dei cartellini avere una pubblica amministrazione che spende meno e funziona meglio e poi certo sederci al tavolo della discussione della governance macroeconomica che è mica un totem e quindi non può essere un tabù però lo devi fare con la credibilità e un po' la stiamo recuperando e dobbiamo tenercela cara che è il bene più prezioso grazie 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 al potere del pari grazie allora io vi do appuntamento alla settimana prossima come non so se eravate tutti presenti credo di no la lezione sarà quella dell'avvocato Borzone che è coordinatore dell'osservatorio informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali già vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali la lezione di Nicola Porro prevista per il 6 ha avuto qualche problema con la trasmissione Matrix l'abbiamo rinviata al martedì 21 marzo comunque è già tutto presente sul sito sia la locandina è stata aggiornata il corpo docente e gli orari con i dettagli per qualsiasi cosa io sono a disposizione ci vediamo settimana prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti